Buongiorno a tutti, oggi siamo al quarto appuntamento di Paesaggi Identitari. Dopo una prima conferenza sull'isola di Pantelleria, una seconda su una valle della Lunigiana, una terza al Lago di Garda, passiamo oggi a parlare di un'altra valle importante nel panorama italiano da tanti punti di vista. Ne parlerà la professoressa Elena Cati dell'Università di Torino, professore ordinario di floricoltura, giardini e parchi, che ha all'attivo tante pubblicazioni in materia. sentiamo che cosa ci racconta. Prego professoressa. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio l'architetto Matteini per avermi invitata ad essere qui oggi. Io parlerò del territorio del biellese che conosco perché ho trascorso due anni durante la guerra e poi perché ho una casa dove ritorno sempre con grande piacere durante le vacanze. Sfollati nel novembre del 43 dopo un bombardamento molto forte a Torino. Qui noi di solito si impiegano due ore per andare da Torino a Biella, mentre invece quella giornata abbiamo impiegato più di due ore, abbiamo impiegato un'intera giornata e abbiamo terminato il nostro viaggio per treno così lungo con un trenino che collegava Biella a Balma e questa linea ferroviaria ha il scartamento ridotto e a trazione elettrica ed è stata dismessa nel 1958 ed era stata invece inaugurata nel 1891 e serviva per trasportare le persone ma anche i materiali come per esempio la sienite di cui c'erano delle importanti cave in Valle Cervo. Ecco, nuovi suoni che ho ascoltato, cioè il cinguettio degli uccelli come questo pettirosso che si posava sull'avanzare dalla finestra a cui davo qualche piccola mollica di pane, il soffio del vento, il monoreio del vento tra le fronde degli alberi, i rumori che provenivano dalle cave, cioè il fischio che indicava che si era piccata una miccia e poi la sirena per scandire invece le ore di lavoro. Altro suono proveniva dai campanili che indicavano quando c'era un funerale oppure suonavano in modo diverso per indicare una festa e ancora suoni per richiamare le persone a spalare la neve. Si dice che i biellesi siano avari. In realtà durante il periodo della guerra hanno ospitato ben tre famiglie di ebrei in Valle Cervo e queste famiglie ovviamente non avevano la tessera non aria e poi stavano rinchiusi nelle loro giornate perché non avevano, temevano appunto di essere spediti, mandati poi in campi di concentramento. Le famiglie sono gli Iona di Biella, la famiglia di Avvocati, i Levi di Milano e i Norsi di Torino. Un'altra particolarità del periodo di guerra era la presenza di una scuola pluriclasse, cioè in un'unica aula c'erano le cinque classi delle elementari, quindi i bambini che avevano sei anni insieme invece a ragazzi che ne avevano già dieci, dodici e anche più perché erano stati bocciati. Biella diventa provincia autonoma nel 1992 dopo essere stata provincia di Novara e di Vercelli. Il biellese si caratterizza per possedere una notevole ricchezza di acqua. Difatti questi insediamenti sono insediamenti di persone ed industriali, si trovano proprio, manifestano un importante equilibrio tra l'uomo e la natura e questa simbiosi anche agisce sulla bellezza e sul tipo di qualità della vita nel biellese. Altri torrenti, quindi la ricchezza d'acqua è molto importante, altri torrenti oltre il cervo che è il più importante ed è una fluente del Po, sono l'Europa che scorre nella valle d'Europa e poi l'Elvo che contiene ancora delle pepite d'oro perché nell'antichità in prossimità di questo torrente c'era una miniera d'oro. Ancora altri torrenti sono l'Ostrona, il Dimosso e il Sessera. I torrenti biellese, come dicevo, sono molto importanti per la presenza di un bassissimo residuo fisso e un basso contenuto di sodio e di sali minerali che sono elementi che contribuiscono a conferire leggerezza e qualità ai filati e ai tessuti non appesatendo le fibre. I giardini nel biellese sono soprattutto giardini privati che sono localizzati nella parte collinare. Noi come Dipartimento abbiamo pubblicato nel 2007 un volume con un censimento di 120 giardini privati di cui come vedremo 20 si trovano proprio nel biellese. Qui uno schizzo con i puntini verdi si indica la localizzazione del giardino e poi ci sono i vari nomi dei giardini. Rosazza è una borgata della Valle Cervo, Alta Valle Cervo dove ha operato soprattutto Federico Rosazza perché ha trasformato questa borgata in un paese molto gradevole dove ha inserito tanti manufatti come la chiesa, la fontana, il municipio e naturalmente aveva un giardino bellissimo di gusto inglese nella sua proprietà. Quello che vediamo qui sono due immagini di parchi. San Girolamo che presenta delle conifere di color verde naturalmente e delle latifoglie che invece assumono un colore dorato durante il periodo autunnale. Villa Mosca oltre al giardino che è molto bello anche qui con permanenza di conifere ma anche di tanti aceri che contiene al suo interno, il parco contiene una piscina e un campo da tennis. Quando si percorrono le strade del biellese il paesaggio racconta 160 anni di tessile e qui si trovano ovunque delle fabbriche dismesse e in attività, delle ciminiere, dei villaggi operai, dei torrenti e dei canali di derivazione. Tutto questo risale al XIX secolo. Il lanificio Sella, questo è l'ex lanificio Sella, si trova lungo i corsi d'acqua, il corso d'acqua del cervo ed è stato dismesso come attività di tessile ma invece contiene un centro di documentazione e anche la fondazione Sella. Il distretto biellese è specializzato nella produzione di filati e tessuti pettinati, pregiati e ricercati. Si parte dalla lana delle pecore, questa lana che viene importata da Nuova Zelanda, dall'Australia e da tanti altri paesi. Chi ha contribuito veramente molto alla valorizzazione del biellese è stato Pietro Porcinai, con cui so che l'architetto Matteni ha collaborato. Pietro Porcinai ha realizzato ben 1300 progetti in Italia e in Europa ed è stato il più famoso paesaggista del Novecento. Quindi ha progettato dei giardini e dei parchi in diverse parti del biellese ma la sua abilità era il fatto di creare dei giardini paesaggio, cioè dei giardini nei quali l'uomo sembra non aver fatto nulla. Porcinai sapeva lavorare su diverse scale, quindi dal giardino al parco, dall'area industriale al villaggio turistico, dall'autostrada all'area agricola. Ecco Pietro Porcinai, figlio di Martino Porcinai, che era il capo giardiniere di Villa Gamberaia, che aveva una grande passione per la botanica, disegnava questi taccuini con delle foglie e delle racconti di piante. Pietro Porcinai si è diplomato per rito agrario nel 1928 presso la scuola regia delle Cascine. Uno scorcio di Villa Gamberaia, che è stato realizzato nel XVII secolo, presenza di ulivi che sono delle piante autoctone e poi una fonte di ispirazione è stata veramente per Porcinai il giardino della Gamberaia, tanto che lo si ritrova come motivo in molti dei giardini, i primi giardini progettati da Porcinai. Predilezione per pante autoctone, come qui si vede sempre gli ulivi, è un grande sobrietà. Ecco, il giardino è una grande casa che ha pertetto il cielo. Questa è una bella definizione che dava Porcinai, che ha lavorato nel Biellese a partire dal 1948, quando è stato chiamato dai Piacenza per realizzare il parco Burcina, poi ha lavorato con il comune di Biellese per dar vita a un parco pubblico e poi molto con la famiglia Zegna di Trivero. Felice Piacenza si vede in questa immagine d'archivio nel parco Burcina, questo parco di 60 ettari che ha notevolmente ingrandito dopo che l'aveva fondato il padre Carlo. Accanto alla Burcina si trova Villa Piacenza, quindi di solito le persone che visitano la Burcina poi sono interessate a visitare il giardino della villa che presenta una forma tardo settecentesca e che si sembra proteggere addirittura il giardino come in una specie di abbraccio. Attualmente è gestito da Guido Piacenza che è un notevole conoscitore di piante e dalla moglie Ursula, una botanica. Si vedono statue anche nel giardino ed è perfettamente mantenuto. Ecco la villa, questa ivola circolare di begogne e le cheveria che ha un colore grigio. All'inizio dell'Ottocento il parco si è arricchito di un manufatto molto prezioso che è questa serra in ferro e vetro con delle decorazioni di gusto floreale che provengono sul modello di serre inglesi. Qui venivano coltivate delle piante esotiche e soprattutto la famiglia si riuniva d'inverno per prendere il tè. Panoramica segna con la valle dei Rododendri dove sono state introdotte 120 ibridi all'inizio della collezione e attualmente ci sono anche 120.000 piante di Rododendro e quindi rappresenta un ricco germoplasma che finora è stato poco studiato. Come germoplasma si intende l'insieme dei caratteri genetici di una pianta o anche l'insieme, si può dire, l'insieme di cellule e di tessuti che sono capaci poi di ripristinare un organismo intero. Presenze nel parco della Burcina, quindi sequoie che provengono dalla California e che nessuno avrebbe pensato che si acclimatassero e si sviluppassero così bene in un clima tanto diverso. Hortensie, qui vediamo l'hortensia, l'idrangea macrofilla che proviene dal Giappone. Ci sono questi capolini che contengono quindi delle bratte che sono delle foglie trasformate e al centro il piccolo fiore. L'idrangea significa vaso d'acqua perché le piante hanno bisogno di una notevole quantità di acqua quindi dove ci sono le azalee è necessario disporre di, dove ci sono le hortensie è necessario disporre di molta acqua. Certamente alla realizzazione dei giardini ha molto contribuito l'opera dei plant hunters, questi cacciatori di piante che per riuscire a procurarsi delle piante, dei semi, dovevano veramente compiere dei viaggi molto particolari, molto difficili e anche avere una resistenza al di fuori del comune. A partire dal Settecento soldati, marinai, mercanti e legionari hanno introdotto semi e piante in Europa. Sui plant hunters c'è una ricca documentazione, molti libri, qui vediamo in copertina una pianta di frittillaria che è una pianta che possiede un grosso bulbo. La caccia alle piante richiedeva da parte di questi cacciatori di piante lealtà, residenza, resistenza e indifferenza alle situazioni di disagio. Queste persone potevano andare incontro a malattie, naufragi, febbri, tropicali. Alcuni sono addirittura morti nel tentativo di scalare delle vette e di poter portare in patria dei bulbi di gladiolo. Quindi malattie, naufragi, febbri tropicali, fame, sete e anche in certi posti un caldo torrido e in altri il gelo sono tutto quello che hanno subito questi plant hunters. Le due compagnie di maggiore importanza, che erano famose società di navigazione e di commercio, sono state la compagnia inglese delle Indie orientali e la compagnia olandese delle Indie orientali. Il rododendro proviene dalla Cina e dal Giappone. È stato introdotto in Europa nel XVIII secolo e invece in Italia nel XIX secolo. Alcune immagini di cacciatori di piante, tutti inglesi, Robert Fortune, che ha introdotto, tra le altre, la piante, la hosta fortunei, che è preziosa per il giardino perché si adatta ai luoghi in ombra, molto resistente al freddo, con delle belle foglie ampie e screziate di bianco o di crema. Lo smantus fortunei, che è un arbusto molto longevo, che fiorisce tra agosto e settembre fandendo un profumo molto piacevole. I geranium fortunei sono delle coprisuole, delle tapezzanti, cioè delle piante che impediscono la crescita alle infestanti. Con rododendro, naturalmente rododendro fortunei, un altro plantantes, cioè cacciatore di piante, era George Forrest, anche lui inglese. E qui vediamo un'immagine dei suoi trasportatori che erano impiegati, proprio utilizzati per trasportare dei campioni, delle piante raccolte. Una volta che le piante venivano introdotte, dovevano essere acclimatate e la tecnica culturale doveva essere messa a punto e questo veniva presso il Jardin des Plantes a Parigi, presso l'orto botanico di Padova, che è uno dei più antichi d'Europa ed è stato realizzato nel 1545, dall'orto botanico di Brera a Milano e dall'orto botanico di Firenze. Una volta acclimatati e messa a punto la tecnica culturale, questi passavano ai vivaisti. I vivaisti importanti all'epoca erano Burden Maggiore a Torino e Milano, i fratelli Rovelli a Verbania. C'è questo collezionismo privato sul Lago Maggiore, dove si vedono appunto queste rododendri, anche a Zalè, nei giardini privati e poi naturalmente molti alla Bulcina e all'Oasi Zegna. che volevo dire che il rododendro, la Zalè e le ortensie che abbiamo visto si adattano molto bene al vietese perché c'è un clima fresco e umido e si adattano anche perché il pH, cioè la concentrazione dei sali minerali del terreno, il pH è acido, cioè tra 3 e 5 e quindi è sempre bene quando si dà vita ad un giardino che si facciano delle analisi del terreno prima per vedere quali condizioni, quali piante si devono mettere a dimora. Qui ci sono immagini della Burcina, soprattutto del vallone dei rododendri. Burcinae era un grande conoscitore di botanica e quindi i suoi giardini sono delle vere e proprie collezioni botaniche. Si ispira alla vegetazione del luogo e utilizza anche dei materiali come la pietra, il legno e i locali, cioè la pietra che soprattutto proveniva dalle cave di Sienite della Valma. Chi ha valorizzato molto il biellese è stato Ermenegildo Zegna che nel 1910 con i suoi fratelli ha fondato il lanificio che si trova a Trivero. E poi Ermenegildo Zegna non ha soltanto realizzato il lanificio, anche un dopolavoro, e poi soprattutto molte opere pensando al benessere della popolazione, cioè una biblioteca pubblica, un asilo, una palestra e una clinica della maternità e dell'infanzia. L'Oasi Zegna e la panoramica sono due realizzazioni, appunto la panoramica è stata realizzata a partire dal 1938 e l'Oasi invece in tempi molto più recenti dai discendenti di Ermenegildo Zegna, figli e nipoti, che sono tutti a lavorare nella azienda. La panoramica ha una lunghezza, è una strada che ha una lunghezza di 44 chilometri, che congiunge Trivero con la Valle Cervo. E ha degli scorsici bellissimi sulla pianura padana e sulla Valle Sessera, ed è un SIC, cioè un territorio di interesse comunitario. Altre immagini della panoramica, dove sono stati messi a dimora ben 500.000 conifere, che non si sono, oltre a centinaia di rododenti e di azalee, queste conifere non si sono autoseminate e quindi adesso, avendo degli apparati radicali molto superficiali, stanno corollando via via e quindi si devono sostituire con un nuovo progetto che è allo studio da parte di un paesaggista inglese. L'oasi Zegna, realizzata nel 1993, ha ottenuto poi nel 2014 un patrimonio del FAI. Ecco, uno scorcio della panoramica, come si vede appunto ci sono queste bellissime fioriture durante tutto il periodo primaverile e nell'oasi sono state, l'oasi è stata appunto creata nel 1993 dagli eredi della famiglia e un'altra realizzazione, sempre degli Zegna, è Casa Zegna, che racconta la storia del gruppo Zegna. Immagini della Burcina, che è un parco pubblico, quindi aperto a tutti ed è molto frequentato dai locali ma anche da turisti. Due realizzazioni importanti di Porcinai sono state Cagianin a Trivero per la famiglia di Angelo Zegna e Villa Iroc per quella di Aldo Zegna. Qui l'ingresso al giardino presenta queste lastre di pietra che sono di sienite, appunto provenienti dalla Valle Cervo, all'ingresso e poi anche lungo tutti i camminamenti. Uno scorcio che ricorda molto il giardino giapponese, perché Porcinai lo amava molto ed era per lui fonte di ispirazione. Una boettulla allevata in un modo particolare e poi delle pietre disposte anche a formare un insieme che ricorda effettivamente molto i giardini giapponesi. Alzalee potate, con grande maestria da un giardiniere molto competente, e Cerastium che è una pianta annuale di colore bianco e poi la scalinata sempre in pietra locale. Quelli che vediamo, le persone che vediamo, sono degli studenti del nostro master in paesaggismo e aree verdi. Da notare poi le fioriture scalari, l'alzalea mollis è la prima a fiorire e successivamente vengono altre alzalee. Prati molto ben topiato, cioè tagliato. E qui un'immagine di Villa Il Rock, con sedute in legno, opera di Porcinai che amava appunto questi materiali naturali, poi sentieri e piazzole sempre in legno e qui vediamo qualche rodo dentro, arboreo anche nel giardino. Altre immagini delle scale, non c'erano ancora le fioriture. Fioriture di Narcisi, una pianta molto bianca che fiorisce all'inizio proprio della primavera, a marzo-maggio. Una visuale dalla casa del giardino. Chi si è occupata molto del giardino è stata la proprietaria, Andreina Zegna, architetto. Quindi è lei che collaborava con Porcinai, con cui erano venuti in grande amicizia, nel senso che Porcinai l'aveva addirittura aiutata a fare degli allestimenti per il matrimonio delle figlie. Prima abbiamo visto uno scorcio del giardino dove erano presenti delle edere tapessanti e poi alzalee e rhododendri e una fioritura di un glicine molto vetusto. Altro scorcio di panorama sul biellese e anche sul novarese. Fioriture e di nuovo sentieri e fioriture e sempre questo allevamento particolare in forma globosa. Un affascinante manufatto è questo giardino d'inverno che è stato realizzato appunto voluto da Porcinai e ha delle tasche dove si trovano degli anturium andreanum e che è stato anche progettato appunto si è fatto anche all'interno una piscina riscaldata che serviva per una figlia che aveva l'artrosi. dal 2019 Biella ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di città creativa dell'UNESCO entrando a far parte di un network di 246 città. Ecco qui vediamo quello che abbiamo visto praticamente sono dei giardini patrimonio di inestimabile valore poi presenza di un ricco germoplasma che non è stato ancora studiato e quindi il bellese è un territorio, una realtà virtuosa in cui è piacevole abitare e anche visitare. L'immagine presenta il parco di San Girolamo con queste semplici sedute e poi a molti alberi come per esempio platani che costituiscono il viale di ingresso e questo è come dicevo della famiglia Sella. Ecco visto che c'è ancora un pochino di tempo vorrei dire qualche cosa a proposito di un libro Infanzia di guerra che io ho scritto proprio per documentare molti fatti che avvenivano nel Biellese durante la seconda guerra mondiale. Una cosa che sempre mi è rimasta impressa è il fatto che arrivati a Balma dove era il termine del treno e dove siamo andati con questo trenino di cui ho mostrato l'immagine avremmo dovuto da Balma per raggiungere la frazione bariola dove noi abbiamo la casa avremmo dovuto percorrere due o tre ore di cammino ed era sera, buio e molto freddo e quindi con nostra grande sorpresa abbiamo trovato ad attenderci un vetturino, un cavallo e soprattutto un bel calesse. Questo calesse era di proprietà di un ricchissimo costruttore edile che lavorava in Africa ed era proprietario della SEDAO che è la società idroelettrica dell'Africa orientale in Eritrea. In Valle Cervo durante il periodo dello sfollamento erano presenti 8.000 abitanti che venivano da Trivero, da Torino, cioè da Genova e da Milano. Mentre invece attualmente con lo spopolamento della montagna come avviene dovunque la popolazione soltanto di circa 500-800 abitanti. Altra cosa che mi fa venire in mente lo sfollamento sono i nostri bagni, i bagni di noi ragazzi nel torrente Cervo dove era l'acqua estremamente pura e poi era molto fredda e quindi ci temprava e quello era per noi fonte di divertimento e anche la nostra spiaggia e il nostro mare che noi non avevamo ancora conosciuto. Sempre nella seconda guerra mondiale appunto un ricordo che io ho è la presenza di questa scuola pluriclasse di una persona che alla mattina veniva accendere la stufa con dei pezzi di legno che a turno ogni bambino doveva portare appunto per riscaldarsi e poi della maestra, una giovane maestra che proveniva da Tollegno e molto spesso arrivava anche in ritardo per i trasporti molto difficili, era la maestra Giordanetti che era la sua prima esperienza di insegnante. La sua operazione era il disporre di versare l'inchiostro nelle coppette che erano su ciascun banco e dove regolarmente i ragazzi intingevano le trecce delle compagne, quindi i ragazzi un pochino sciocchi così c'era tutto questo gocciolio di inchiostro sul grembiule e soprattutto sui colletti che erano bianchi. Altre cose che mi avevano molto colpito in Valle Cervo era l'abbondanza di uccelli che si vedevano soprattutto nel periodo, nel mese di maggio e quindi la Valle Cervo è nota proprio per una grande presenza di uccelli. Un aspetto su cui vorrei soffermarmi è che quando si vuole dare vita ad un giardino occorre sempre prima far analizzare da istituti competenti il suolo, cioè si prelevano dei campioni disseminati nelle varie parti del terreno in modo da averne un chilogrammo e poi si mandano a questi laboratori d'analisi e così vengono indicati i pH e le piante adatte. Per esempio nel caso appunto del biellese il pH come dicevo è tra 3 e 5, invece se il pH fosse 7, 8, 9 si dovrebbero scegliere delle altre piante. Io avrei terminato. Allora grazie professoressa Cati di questo suo racconto che è un racconto personale ma da cui poi lei trae degli spunti, delle informazioni che sono importanti per tutta la valle che a differenza di considerarla sempre soltanto una valle industriale dedita all'attività tessile che comunque è stata importantissima, attraverso la sua presentazione scopriamo una valle con una ricchezza naturalistica e ambientale molto alta e delle famiglie che se ne occupano, famiglie industriali che con grande lungimiranza hanno pensato di intervenire nel territorio e migliorarlo. Ecco se posso interrompere, volevo dire che oltre a questi imprenditori tessili c'erano anche molti costruttori edili che appunto si sono formati proprio per la presenza di questa sienite e poi di una scuola per i tiedili che con grande lungimiranza avevano fondato a Campiglia Cervo e quindi le persone frequentavano la scuola per sei mesi per sei mesi invece stavano all'estero a fare pratica e quindi c'è anche il fatto che le costruzioni sono tutte le case, sono tutte molto curate e molto belle, deriva proprio dal fatto che c'erano sienite e che veniva utilizzata. Benissimo, questo è un completamento che ci mancava e che è sicuramente utile a capire meglio per tutti noi, conoscere di più il biellese che come abbiamo visto dopo la crisi tessile è diventato invece entrato nei gruppi di città di creatività, quindi una capacità di rinnovarsi e di guardare al futuro. Con questa conferenza di oggi della professoressa Cati abbiamo concluso il ciclo di quattro conferenze di paesaggi identitari. Continueremo sicuramente nel progetto perché la quantità di paesaggi italiani e la ricchezza di soluzioni diverse, situazioni diverse che presentano sono un fatto molto importante per capire meglio il nostro paese e aiutarlo a crescere e a svilupparsi rispettandolo pur guardando al futuro. Vi ringrazio e spero ci sentiremo presto. Buongiorno.